Qualche riflessione al clavicordo sulla settimana barocca fatta a Pistoia presso l'Accademia. È stata un'esperienza meravigliosa che credo valga la pena discutere un poco, soprattutto per gli amatori che mi seguono. Di solito i professionisti conoscono molto bene queste occasioni di incontro, di scambio culturale e le frequentano in maniera assidua. Ma queste occasioni sono ottime anche per gli amatori come noi. Io avevo già avuto esperienze di questo tipo in Repubblica Ceca, però devo dire che qui in Italia, a partire dal problema linguistico, mi sono trovato benissimo e ho imparato decisamente di più, è stato più coinvolgente sia a livello musicale che a livello umano, chiaramente. Quindi, ripeto, è un'esperienza che io consiglio soprattutto ai delettanti che di solito hanno innanzitutto il problema di essere da soli nel loro percorso, soprattutto se non vengono seguiti da un maestro, hanno pochissime occasioni di suonare con altre persone e è ovvio che invece la musica è per sua struttura, diciamo così, dall'organo in poi qualcosa che prevede una comunità, che prevede una sovrapposizione di voci, che prevede la polifonia e in qualche modo la compresenza di tanti suoni, quindi tanti musicisti. Ed è in particolare in queste situazioni che si impara, ripeto, moltissimo, molto di più che nelle situazioni solistiche in cui in qualche modo si è da soli con se stessi, da un certo punto di vista si è più liberi, ma dall'altro punto di vista, ancora una volta, si sconta questa solitudine, questa impossibilità di confrontarsi con l'idea musicale che hanno gli altri, magari dello stesso brano, eccetera. Ci si diverte, ci si diverte tantissimo, è un'esperienza, ripeto, dal punto di vista umano, molto molto bella, in particolare a Pistoia. Ci sono persone meravigliose, a partire dagli insegnanti, ma anche gli studenti che ho incontrato, tutte persone disponibilissime, per noi amatori, molto importante, persone senza la puzza sotto il naso, detto in maniera un po' popolare, che però in questo senso ci aiutano moltissimo, perché è chiaro che, e questo invece in Repubblica Ceca l'ho sentito di più, è chiaro che il professionista che ti guarda un po' come un elemento di disturbo, perché ovviamente le cose non le sai fare bene come lui vorrebbe, fai perdere del tempo, eccetera, eccetera, è chiaro che non aiuta a sentirsi a proprio agio. Mentre invece a Pistoia io e il mio sono sentito perfettamente a mio agio, nonostante gli errori, nonostante i problemi che continuamente ho creato a chi suonava con me, e che d'altra parte però in qualche modo sono stati superati, perché poi ho postato anche sul canale il brano che ho suonato insieme a Maria Novella, Iris e Flavia, che è venuto almeno al meglio delle mie possibilità, ecco, poi anche lì qualche pasticcio c'è stato, però una cosa fondamentale che è stata per me decisamente una svolta musicale è il fatto che nonostante i pasticci io mi sono sentito di suonare dentro un contesto bello, una musica meravigliosa, e non ho sentito l'errore che poi è arrivato come qualcosa che avesse distrutto l'incanto di quel momento, ma come qualcosa che, così, un piccolo incidente di percorso, che però di fatto non toglieva nulla al piacere di quel momento, insomma me la sono goduta e questa cosa è stata forse per la prima volta in vita mia la sensazione che stai partecipando a qualcosa di bello che si crea grazie anche a te e è tanto bello che tu non riesci a distruggere quella bellezza, vabbè, magari ci metti qualche neo, però quella cosa rimane bella, e ripeto, questo mi ha fatto cambiare completamente prospettiva sull'ansia da prestazione, che è di colpo, non dico sparita, però si è completamente ridimensionata, tanto è vero che poi anche suonando più tardi, chiamiamola compagine orchestrale per le aree di Endel, non ho avuto nessun tipo di ansia, ho suonato anche lì al meglio delle mie possibilità, mi sono goduto di nuovo il momento magico in cui quello che succede, succede anche grazie a te, insomma, ripeto, delle soddisfazioni enormi. al di là delle soddisfazioni, come dicevo sin dall'inizio, si impara veramente tanto, si impara veramente tanto, qualche dato concreto, innanzitutto ho scoperto questa ciacona di Pulse che è meravigliosa, e poi, e quindi tutto, diciamo così, il percorso musicale che ci ha portati a suonarla in un certo modo, adesso qui non mi sto a dilungare, che però, insomma, è quel percorso che ti porta al di là a chiappare le note, come avviene solitamente, che è la priorità di solito del dilettante, ti porta invece a entrare dentro al discorso musicale e a cercare di renderlo al meglio delle tue possibilità. E poi, banalmente, la gestione generale del fraseggio, come si esprimono determinati affetti nell'ambito concreto, magari di un'area o di un brano che si esegue insieme, l'enorme importanza che tutti hanno dato, ancora una volta, alla retorica del ritmica, per cui l'accento ritmico è anche un momento particolarmente significativo dal punto di vista armonico e, banalmente, nell'area di Handel in Milusinga il dolce affetto, di fatto l'orchestra viaggia soprattutto per terzine e, ancora una volta, rispetto al modello dilettantesco che mi portavo dietro, però quelle terzine sono, in realtà, la prima nota con due altre noticine evanescenti che sono lì di contorno. Quello che veramente crea il senso ritmico e armonico del brano sono le prime note delle terzine. E questa cosa vuol dire, nella sua banalità, vuol dire che, in realtà, tutta la gestione del fiato, dei calando, dei punti invece di forza, del suono, sono di fatto legati proprio a questa visione di tutto l'andamento ritmico del brano. Insomma, come vedete, situazioni che, quando poi li si vive concretamente, diventano estremamente importanti perché, banalmente, si nota subito come cambia il senso musicale nel momento in cui, invece di seguire le terzine in maniera un po' militaresca, tam 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 tam, che, ripeto, fa sentire non solo meglio il ritmo, ma, in qualche modo, riempie di colore, di colori diversi, tutto il procedimento musicale. E, che altro dire, è stata anche una conferma del mio originale, sono stato contentissimo, perché, ormai, sono molto intonato con un originale che, ripeto, se lo metto in mano a qualcun altro, inoridisce, e questo mi conferma, in quello che avevo già detto, l'artigiano che ha fatto quel flauto, pur non essendo particolarmente famoso, visto che non l'ha firmata, eccetera, eccetera, aveva un' sua idea di equilibrio di intonazione che, evidentemente, funziona. Funziona, nonostante oggi, nessun costruttore si sognerebbe di usare quell'equilibrio. E su questa cosa, secondo me, c'è tanto da riflettere. A partire dal fatto che, ancora una volta, perché nessun costruttore oggi si sognerebbe di lasciare quell'equilibrio? Perché tutti intonano con l'accordatore. Vi lascio anche su questo riflettere. E poi, quindi, buona, se no, ottima intonazione, problemi, come dire, sono imputabili più a me che al flauto, nel momento in cui qualcosa non ha funzionato, ottima tenuta, considerando uno strumento di quasi 300 anni, io ho suonato esclusivamente su quello strumento per tutta la settimana, naturalmente, insomma, ho cercato di dargli un po' di tregua, ho cercato di tenerlo il più possibile asciutto, oliato, insomma, l'ho seguito molto bene in quella settimana e di fatto lui non mi ha mai deluso. Ha sempre suonato perfettamente, non aveva mai avuto nessun intasamento particolare, non si è mai bloccato, quindi, insomma, direi che decisamente è uno strumento che si può ancora suonare, a tutti gli effetti, anche in concerto. è vero che io non ho fatto un concerto lungo, che ne so, un'ora e mezza, ma, il concerto è stato più lungo di un'ora e mezza, ma io ho suonato in vari momenti e quindi flauto ho potuto riposare tra una performance e l'altra, eccetera, durante le prove, durante le prove, invece, noi siamo stati spesso lì, più di un'ora e mezza a continuare a suonare e il flauto non ha fatto una piega. Quindi, sono molto, molto contento, anzi, quando sono tornato dovevo partire per le vacanze, l'ho oliato, l'ho lasciato riposare, ovviamente, durante le vacanze e adesso che l'ho ripreso ho l'impressione che suona ancora meglio, come normalmente succede ai flauti man mano che si abituano a essere suonati e quindi, insomma, alle variazioni di umidità che questo comporta. Non ce l'ho per le mani perché in realtà, anche se non sembra, non sono appostissimo con la salute e quindi non mi va di suonare ancora, l'ho suonato appena rientrato, poi mi sono accorto che avevo la febbre e avevo problemi di salute che andavano gestiti, per cui adesso mi sto riprendendo e spero tra non molto di rimetterci sopra le mani. Però, ecco, devo dire che anche da questo punto di vista sono soddisfattissimo di questa settimana perché è stato un test veramente significativo e importante, insomma, è stata una maratona, una maratona musicale, fisica, ecco, per chi non sa come dimagrire, io in una settimana sono dimagrito un chilo e mezzo e questo credo sia un buon segnale di quanta energia ha richiesto quella settimana. Quindi, fateci un pensierino sopra, non sto facendo pubblicità all'Accademia di Prestoia in particolare, anche se, ripeto, io ho trovato persone meravigliose sia tra i docenti che tra gli studenti, però immagino che in generale queste occasioni che ci sono un po' in tutta Italia, quindi, insomma, possono essere più vicini a casa vostra, più vicini ai vostri interessi, eccetera, vadano considerate come delle ottime occasioni, ripeto, non solo per i professionisti, ma anche per gli amatori. Direi che ho concluso. grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.